Lo sappiamo, certe scene fanno male a chi ama Bassano l'ambiente e la natura. Abbiamo fatto rivedere queste immagini anche all'assessore, alla sicurezza Claudio Mazzocco perché se ciò che è successo deve far riflettere, ciò che continua a succedere in città richiede un intervento da parte dell'amministrazione. C'è un po' di degrado in tutta la città, nel senso che molti incivili abbandonano i rifiuti e su questo stiamo lavorando e anche molto. Ci sono anche molti risultati e invitiamo la gente a comportarsi in maniera civile. Abbiamo un po' tutti ancora negli occhi le scene di immagini di degrado in centro, ad esempio nella zona di Via Verci con liquami abbandonati, con l'asfalto macchiato, in altre zone del centro storico. Lei stesso ha detto che c'è inciviltà, che cosa state facendo? Oltre che attivare e risolvere, memori degli episodi passati, siamo molto attenti che tutto quello che succede in città non debba poi riflettersi con sporcizia o con qualt'altro in questa bellissima città che è Bassano. Più cestini, più controlli, più telecamere, che cosa state mettendo in campo per contrastare i fenomeni di degrado? I cestini sono già stati messi e ci sono, ma l'attenzione particolare è proprio anche a chi viene a Bassano ad operare che opera in maniera corretta.